William d'Inghilterra ricorda il regalo più brutto fatto a Kate Middleton. William d'Inghilterra ancora si chiede il perché del regalo fatto a sua moglie Kate Middleton. E, uno dei primi regali che il principe William d'Inghilterra ha fatto a sua moglie Kate Middleton. Quindi è un dono fatto ancora prima che fossero fidanzati. Foto. Era il periodo in cui William corteggiava Kate. Quello in cui avrebbe fatto di tutto per averla accanto. Perché diventasse la sua fidanzata. Racconta di un regalo che ancora oggi non sa spiegare e l'occasione di confidarlo è arrivata per il principe durante un podcast della BBC. Di certo in tanti anni che Kate e William stanno insieme. Ben otto di fidanzamento e nove di matrimonio. Avranno avuto modo si pensare a doni meravigliosi. importanti. Ma c'è un binocolo che fa sorridere e imbarazzare ancora il duca di Cambridge. E, cool regalo in particolare che William non riesce a dimenticare e ancora oggi si chiede il perché avesse acquistato per la ragazza che voleva conquistare un binocolo. William d'Inghilterra ricorda quando ha regalato un binocolo a Kate Middleton. In occasione della campagna Head's Up per la salute mentale un podcast in cui ha confessato. Non ho la più pallida idea del perché lo avessi comprato. Risate per tutti immaginando che di certo era riuscito a lasciare senza parole Kate. Aprendo la scatola lei aveva chiesto il significato di quel binocolo. Era incredula. Quando stavo per darglielo cercavo di convincermi che era tanto carino. Mi dicevo. Ma è fantastico. Guarda come si vede lontano. Non c'è dubbio che abbia divertito tutti i presenti raccontando quell'episodio ma chissà che fine avrà fatto il binocolo. Alla fine Kate Middleton si è innamorata di lui e sono arrivati tanti altri regali. Davvero meravigliosi. Magari il binocolo non sarà stato del tutto gradito ma William è riuscito negli anni a farsi perdonare con un anello di fidanzamento che era di sua madre. Con gli orecchini diametista creati per Kate. Con un orologio unico, una veretta e tanti altri regali a dir poco preziosi. Kate Middleton indossa un nuovo abito Zara che ha comprato con i saldi e l'ha pagato poco più di 10 euro. Foto. Non c'è dubbio che Kate Middleton sarà la regina d'Inghilterra perfetta ma elegante. Semplice. Dolce e bellissima nel suo abito Zara ha rischiato di fare passare in secondo piano il contest fotografico Old Steel lanciato qualche mese fa e che in questi giorni ha visto la presentazione dei primi 100. Il vestito indossato per l'occasione è come sempre il marchio low cost più amato dalla duchessa di Cambridge e non solo da lei. La moglie del principe William è l'esempio perfetto che si può essere impeccabili senza dovere spendere tanti soldi. Certo da futura regina tutto è più semplice ma l'abito a stampa floreale con inserti in pizzo è quello necessario al bonton richiesto e in più è stato realizzato per il 50% in viscosa e il resto con materiale naturale. Kate Middleton nell'ultimo video indossa un altro abito Zara e forse il prezzo più basso pagato dalla Middleton per un abito ma non era questo il dettaglio che la moglie del principe William voleva mettere in primo piano. Nonostante tutto l'attenzione al suo look è stata immediata e si è scoperto che l'abito Zara costa solo 11 euro. In saldo? Insomma un vero affare che Kate non si è lasciata sfuggire. La fascia elastica in vita lo rende adatto a molti fisici ma alla Middleton sta più o meno bene tutto. Inoltre, orecchini a cerchio, un make dai colori neutri, solo un timido lucido sulle labbra, capelli lisci e sorriso. In collegamento con la National Portrait di Londra il risultato perfetto. Anche per Zara che in poche ore ha esaurito il capo pubblicizzato indirettamente dalla duchessa. Kate Middleton e il piccolo Louis sulla rivista Key in esclusiva le foto della duchessa di Cambridge in giro per Londra. Sul nuovo numero della rivista Key. In edicola da mercoledì 16 settembre. In esclusiva mondiale arrivano le immagini incredibili di Kate Middleton in giro a piedi per Londra come una qualsiasi cittadina con il terzogenito Louis. Non è un caso se Kate ha oggi. È sicuramente una delle più amate della famiglia reale. Con la sua semplicità nel corso di questi anni di fidanzamento e poi di matrimonio con William. Non ha mai sbagliato una mossa e ha conquistato da subito il cuore dei sudditi di sua maestà. Ed eccola adesso in giro per Londra. Come se fosse una cittadina qualunque. La futura regina. Infatti. Dopo i tanti mesi trascorsi ad Hammer Hall. La tenuta di campagna nel Norfolk. È tornata definitivamente in città per l'inizio delle scuole dei due figli più grandi. George e Charlotte. Di Louis non si hanno comunicazioni ufficiali da palazzo che abbia iniziato ancora la materna. È rimasta imbottigliata nel traffico dalle parti del ponte Battersea e così ha pensato di scendere dall'auto e di continuare la strada a piedi davanti agli occhi esterrefatti di ciclisti e passanti. Kate Middleton cammina a piedi con in braccio il piccolo Louis. Kate. Infatti. Ha camminato mostrando a un divertitissimo Louis. Un po' in braccio. Un po' per mano. Le barche che passavano sul Tamigi e alcuni palazzi. Come nessuno della Royal Family aveva mai fatto prima. Le foto in esclusiva mondiale arrivano in Italia sulla rivista Key. Ed ecco una piccola anticipazione per voi in attesa di vedere il servizio completo. Dolcissimi Kate e il suo piccolo mentre camminano insieme per strada. Kate è davvero una donna che sa come farsi amare. Sarebbe stato William di Inghilterra a dare l'indizio. Kate Middleton è davvero incinta? Per l'ennesima volta il gossip rivela che Kate Middleton è incinta. Non c'è nessuna conferma ufficiale. I reali inglesi tacciono ma sembra che sia stato proprio William di Inghilterra a dare l'indizio questa volta o ancora una volta. C'è davvero la quarta gravidanza per Kate Middleton? La duchessa di Cambridge è in dolce attesa dopo George. Charlotte e Lewis. Nessuna risposta certa ma secondo il Daily Express ci sono tutti gli indizi ed è l'esperta nel linguaggio del corpo che ha annunciato l'arrivo della cicogna. E, William che è stato messo sotto esame. Quindi Judy James non ha studiato il linguaggio del corpo di Kate Middleton ma di suo marito. In pratica l'esperta ha spiegato che la duchessa posa spesso le mani sulla pancia. Non è quindi questo un indizio? Che in genere è invece il primo sintomo? Chi invece sembra si sia tradito è il principe. Kate Middleton incinta del quarto figlio. Kate non è la fonte più adatta da analizzare quando si tratta di notizie che riguardano bambini in arrivo ha spiegato per la duchessa di Cambridge. Infatti. La posa con le mani sulla pancia è sempre un segno distintivo. Incinta o no? No. Invece. Sempre secondo la James William sarebbe un libro aperto. A differenza di suo padre. Riesce a mascherare aspetti negativi come la rabbia o frustrazione. Ma se si vuole sapere qualcosa sui figli in arrivo basta guardare i suoi sorrisi repressi. In pratica la gioia è più difficile da nascondere. Cercare di sopprimere un sorriso ha sempre spiegato l'esperta porta a un'espressione degli occhi addolcita. A un loro restringimento. Inoltre c'è una leggera spinta in fuori delle labbra e il sorriso emerge agli angoli. Per l'ennesima volta non ci resta che attendere il pancione o l'annuncio ufficiale.